attenzione slamata qua è Fishing Biuzzo bentornati in questo nuovo video ho giù la canna con bigattino e pastura non si prende un cazzo ma in compenso coppa birra, Nicola, prese la coppa nì meglio di così leo il cuoco, nichi il cuoco due canne a fondo a pesce gatti una col pezzo di pesce e una con i bigattini e niente ci mangia non l'aveva preso niente un quale anche qua, mi ha preso un pesce gattino inutile ci spostiamo nel laghetto di fiducia la rosalba e lì le carpe le prenderemo dai poi leo pesca col pane a galla siamo arrivati nelle lanche della rosalba e ho già preparato tutta l'attrezzatura l'innesco ce l'abbiamo è pasturatore, vieni qui ci mettiamo un po' di bigattini incollati in mezzo qui, così e da una parte e dall'altra un po' di pastura così abbiamo una striscia di bigattini in mezzo pastura da una parte e pastura dall'altra che fanno il tappo terminale di una 40 dei centimetri e questo va attorno così non si incaglia non si هنا Grazie a tutti. 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 Anche lei ne ha una. Bello quel cappellino lì, Nick. Grazie, è tu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.